incendio distrugge otomezzi a montauro superiore indagini in corso drangheta e scommesse sportive la procura di reggio chiede 20 condanne autonomia differenziata la vicepresidente della camera scani alla mezzi a terra inaugurato il centro logistico sossan lions la mezzi a valle del savuto intitolato a salvatore trigona ben ritrovati con le informazioni di calabria tv 5 auto mezzi di una ditta edile a fuoco al montauro nel catanzarese l'intervento dei vigili del fuoco e valso alla completa istinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all'interno della ditta non si esclude la matrice dolosa alle prime ore di questa mattina intorno alle 2 20 squadre dei vigili del fuoco del comando di catanzaro distaccamento di soverato sono state allertate per un incendio di otto mezzi nel comune di montauro l'incendio interessato cinque veicoli parcheggiati in un piazzale privato di una ditta edile tra i mezzi coinvolti vi erano anche un camion fiat e un damper entrambi parzialmente danneggiati mentre un pick up un opel corso e un furgone d'alli sono stati completamente distrutti dalle fiamme grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco l'incendio è stato completamente domato evitando così il propagarsi delle fiamme all'interno della struttura aziendale tuttavia al termine delle operazioni di spegnimento è emersa la possibilità di una matrice dolosa per questo motivo sono in corso ora ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri del comando della compagnia di soverato in particolare il nucleo radiomobile insieme al luogotenente della stazione dei carabinieri di gasperina al momento non si segnano danni a persone dopo quanto accaduto si rimane in attesa di conoscere le possibili cause dell'incendio ovviamente la cosa ha destato sconcerto nella comunità locale di montauro superiore processo gambling sull'organizzazione che faceva affari d'oro con le scommesse sportive online alla procura antimafia di reggio calabria ha avanzato una serie di richieste di condanne alcune delle quali pesanti come un macigno mano pesante della procura antimafia al processo gambling sull'organizzazione che faceva affari d'oro con le scommesse sportive online in tribunale l'ennesimo stralcio dell'operazione interforce che stroncò la rete che ruotava attorno all'allora boss dei centri scommesse mario gennaro divenuto collaboratore di giustizia una manciata di settimane dopo l'arresto per il blizzi gambling e l'estradizione da malta dove aveva trasferito il quartiere generale da allora mario gennaro si è trasformato nel grande accusatore in sede di requisitoria davanti al tribunale collegiare il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia saramerio ha ribadito il grave quadro accusatorio avanzando una serie di richieste di condanne alcune delle quali pesanti come un macigno nel dettaglio mario verde 25 anni di reclusione antonio alvaro 18 anni cristiano e costantino 21 anni domenico la grotteria 13 anni davide taer 11 anni la procura ha chiesto la conferma a 9 anni per alessandro ciaffi e giovanni ciarfaglia pene più contenute a carico di cosimo e giancarlo apice 4 anni e 2 mesi silvio baione 7 anni cesare cardamone 7 anni dominico e gaetano cipolla 4 anni e 2 mesi francesco datola 4 anni e 2 mesi francesco giardino 7 anni giovanni maringolo 4 anni e 2 mesi francesco lio 4 anni e 2 mesi antonio pantisano 7 anni sascia ruggeri 4 anni 4 mesi per francesco sergi chiesta la soluzione per marianna nava con l'operazione gambling la squadra stato riuscì a smantellare una rete internazionale in parte attiva in italia in parte stanziata all'estero operanti sul mercato tramite licenze concesse dapprima dalle antille olandesi quindi da malta presso cui infine si stanziava il vertice dirigenziale secondo gli inquirenti l'accusa centrale e associazione a delinquere con l'aggravante nell'articolo 7 esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse omessa dichiarazione dei redditi e viva truffa gravata ai danni dello stato trasferimento fraudolento di valori in relazione alle reiterate intestazioni fittizie di imprese e società volte ad occultare l'infiltrazione nell'organizzazione dell'andrangheta e di consentire l'autoriciclaggio delle somme derivanti dalla distribuzione promiscua di giochi e scommesse a distanza muniti di regolare concessione e di altri che ne erano prive ed erano perciò molto più remunerativi riciclaggio e riempiego dei proventi di delitto e tra chi è finito sul banco degli imputati anche soci costitutori delle imprese e dirigenti fiduciari per la gestione delle dinamiche informatiche economiche relative alla commercializzazione dei brand dell'associazione e numerosi gestori di centri giochi scommesse ovvero di centri trasmissioni dati intestatari fittizi di quote apparenti titolari di incarichi rappresentativi dipendenti tecnico amministrativi di società attraverso cui l'associazione operava in italia all'estero per la dda sempre con la benedizione dell'andrangheta di archi quattro persone tre uomini una donna tutti italiani e residenti nel comune di gioia tauro sono finiti in arresto con l'accusa di spaccio di stupefacenti e per due di loro si sono anche spalancate le porte del carcere gli indagati vendevano droga in particolare cocaina marivana e hashish più o meno a qualsiasi ora del giorno in zone tra l'altro altamente trafficate non curanti dei passanti e a volte anche dalla presenza di minorenni gli investigatori infatti ritengono di aver identificato due delle diverse piazze di spaccio una di queste situate proprio al centro di gioia tauro l'altra invece sulla statale 18 all'ingresso della cittadina per due degli indagati il gip di palmi ha disposto la misura cautelare in carcere mentre per gli altri due sono stati sottoposti al divieto di dimora nel comune di residenza preoccupato il sindaco di polistena michele tripodi per la situazione di degrado in cui versa all'ospedale i cittadini sindaco sono tante le battaglie che lei fa per questo presidio ospedaliero però si dice che ci sono interventi però la situazione non cambia ecco ma io sono preoccupato sono preoccupato perché non vedo alle parole seguire dei fatti concreti nei giorni scorsi abbiamo anche criticato la scelta di destinare 68 milioni di euro un tesoretto da parte del commissario ad acta nella persona del governatore della calabria che appunto da questi soldi a strutture che ancora non ci sono stiamo parlando di tre ospedali della calabria che solo in un caso hanno visto la posa della prima pietra ma negli altri casi non si è visto nulla quindi io ho chiesto che questi 68 milioni di euro fossero devoluti alle strutture esistenti perché queste sono le strutture che al momento danno servizi alla popolazione e che non possono rimanere nelle condizioni in cui sono servono interventi strutturali servono rifatti i pavimenti servono rifatte le sale operatorie e servono rifatte le facciate perché chi entra in un posto per curarsi non può assistere ad un ambiente che non è salubre quindi io credo che ci sia la necessità di una svolta l'arrivo dei medici cubani è stato utile ma è stata sempre ed è lo è una misura provvisoria chiediamo che i vuoti d'organico vengano rimpinguati con personale che vinca i concorsi che entri di ruolo e stia nei nostri ospedali perché qui davvero abbiamo assistito negli ultimi anni alla fuga delle professionalità ma certamente è ascrivibile molte responsabilità sono ascrivibili alle classi di dirigenti che si sono susseguite nel tempo quindi non è che dobbiamo dare responsabilità a questo o a quell'altro certo oggi amministra occhiuto sono già trascorsi due anni e mezzo e alcune risposte deve darle l'onorevole anna scani vicepresidente della camera dei depuntati alla mezzia terme presso la sede regionale calabria del partito democratico si è discusso di autonomia differenziata contrapponiamo l'idea di chi vuole spaccare l'italia a un filo che invece ricuce i territori tra di loro e il centro i palazzi romani con le forze vive che ci sono nei nostri circoli e nelle nostre città filo diretto nasce così e naturalmente nasce anche per raccontare cos'è davvero l'autonomia differenziata voluta da salvini e meloni e che danni può fare non solo al sud ma tutta l'italia ci sarà una discussione direi lunga alla camera sui nostri emendamenti e poi anche in aula se la maggioranza forse forzerà noi pretenderemo di discutere uno per uno tutti i nostri emendamenti perché vogliamo mettere la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità vogliamo far sì che chi usa il nome italia nel nome del proprio partito si vergogni di farlo perché questo provvedimento spacca l'italia in 20 pezzi e fa sì che i diritti dei cittadini non siano più uguali a seconda della regione nella quale nascono e ripeto non è solo un problema del sud è un problema del paese pensiamo solo all'istruzione l'istruzione diventa una questione regionale quindi nascere in una regione piuttosto che in un'altra significherà avere un diritto allo studio diverso e questa l'italia che vogliamo io credo di no abbiamo già visto cosa succede quando la sanità diventa materia esclusivamente regionale spingere ancora di più l'acceleratore su questo senza peraltro fare in modo che i diritti fondamentali siano davvero garantiti perché l'app così come sono indicati sono uno specchietto per le allodole vuol dire cancellare il diritto universale alla salute che è previsto dalla nostra costituzione per il quale personalità come tina anselmi si sono spese una vita intera ecco e cancellare la storia del paese cancellare i diritti fondamentali noi non glielo consentiremo e credo che i cittadini e le cittadine saranno al nostro fianco il processo di elettrificazione della linea ionica è considerato cruciale per migliorare l'accessibilità e la connettività della calabria con il resto del paese l'ex presidente della regione calabria mario liverio ha denunciato il fenomeno dell'opportunismo politico in cui diversi esponenti si attribuiscono dei meriti non dovuti secondo l'ex presidente della regione calabria mario liverio sull'elettrificazione della linea ionica si sta facendo il cosiddetto gioco delle tre carte dove il centrodestra si attribuisce dei meriti non loro cinque anni dopo dice sembra ritrovarsi ad un punto di partenza si annunciano gli avvi di lavori di progettazione e realizzazione con una scadenza fissata al 2026 ma io credo che avrebbero dovuto soltanto seguire quella che era un cantiere aperto e invece quando il 2020 io sono andato via c'è stata il covid in parte ma subito dopo il covid avrebbero dovuto far riaprire il cantiere e non l'hanno fatto assolutamente i cantieri sono fermi 700 milioni di euro investiti cantieri fermi quindi altro che se fatto in due anni quello che i predecessori sento dire ogni tanto questa battuta non hanno fatto in 20 anni purtroppo c'è una paralisi nella utilizzazione delle risorse nelle risorse del pnr delle risorse della programmazione comunitaria bisogna svegliare la calabria e anche le forze sociali devono svolgere un compito più incisivo più forte e naturalmente l'opposizione deve svegliarsi dal sonno perché anche l'opposizione è nel sonno più profondo noi abbiamo bisogno di dare voce a questa a questa terra di farlo perché il futuro si costruisce oggi non si può rinviare la costruzione del futuro oggi c'è uno ci sono occasioni importanti che non si possono perdere e che richiedono responsabilità iniziativa determinazione bisogna crederci nei locali di la mezzia europa spa è stato inaugurato il centro logistico sosan lions la mezzia valle del savuto intitolato a salvatore trigona presidente fondatore della rete sosan diffusa in tutta italia grazie all'impegno profuso dai soci del lions club i saloni del centro imprese la messia europa hanno ospitato la cerimonia di inaugurazione del centro sosan lions intitolato alla memoria di salvatore trigona fondatore primo presidente recentemente scomparso presenti alla cerimonia oltre le autorità laionistiche il presidente nazionale sosan francesco pira il sindaco di la messia terme paolo mascara altri sindaci del comprensorio il presidente della messia europa leopoldo che fallo ed alcune delle associazioni che operano sul territorio oltre ai medici di soci sosan che operano per il centro è stata l'occasione per ripercorrere i vent'anni della sosan impegnata sia in italia che nelle missioni all'estero il direttore sanitario ha messo a fuoco l'operato dei medici che ormai da tre anni operano sul territorio calabrese con un servizio rivolto ai più deboli e a chi ha bisogno a conferma del grande valore che ha questa iniziativa di solidarietà pensata per allenire le sofferenze di chi purtroppo non ha la possibilità di ottenere quelle cure necessarie e a volte vitali l'esempio più bello e concreto di vivere il laionismo all'insegna della solidarietà in favore di chi ha bisogno un presidio di civiltà un presidio di solidarietà in una zona della calabria che ci sta dando grandi soddisfazioni in un momento in cui la sosan a livello nazionale internazionale sta facendo delle cose importanti stiamo aprendo un altro centro sambuca di sicilia odontoiatrico per assistere persone che non possono permettersi l'assistenza stiamo tornando in marocco per operare con i nostri chirurghi per operare le persone che hanno bisogno i bambini torneremo a lampedusa e pantelleria a dare con i nostri medici supporto ai migranti che sbarcano quindi credo insieme al ministero della della sanità e al distretto lions sicilia in calabria è accaduto qualcosa di meraviglioso qualcosa di importante e speriamo che possa essere davvero un presidio per la crescita di questo territorio dove la solidarietà sanitaria è qualcosa di cui il territorio stesso ci chiede qualcosa di cui la calabria ha bisogno e quindi noi siamo qui per questo e ringrazio davvero gli amici della sosan la mezzia che hanno voluto intitolare al nostro presidente fondatore a cui ero molto legato il centro quindi si chiamerà centro sosan salvatore trigone per noi questo è un grande motivo di orgoglio è un motivo per tornarci più spesso significa che vi sarà un presidio sanitario per chi non può permettersi certe cure ma la sosan prova a venire incontro a tutte quelle persone che hanno un problema di salute ma che non possono permettersi delle cure o che hanno magari non sono raggiungibili o che magari chiedono aiuto e a volte questo aiuto non torna tra l'altro noi abbiamo una convenzione con il pronto soccorso psicologico Italia e anche a Lampedusa per esempio proveremo a fare un percorso per dare sostegno psicologico alle persone che ce lo chiedono quindi tutto questo è sosan cioè solidarietà vera piccoli gesti per riuscire a dare conforto alle persone che hanno bisogno. Termina qui il nostro notiziario grazie per averci seguito Grazie a tutti